Non aspettiamo San Sebastiano per far capire alla gente tutto il lavoro che facciamo. A dirlo è il comandante della polizia locale Gaetano Paciullo che ha fatto un resoconto delle attività svolte nei mesi appena trascorsi. Attività intense nonostante il traffico ridotto e pericolose per il frequente contatto con le persone. Abbiamo controllato più di 6.000 persone e in più eravamo anche i destinatari della nota della prefettura sui positivi bitontini per cui abbiamo controllato anche i positivi e coloro che erano collocati in isolamento fiduciario. Abbiamo fatto un lavoro molto stressante e pesante, ve lo lascio immaginare, anche rischioso, tenendo conto che quando si facevano i posti di controllo chiaramente non conoscevi l'utente da dove arrivava e con che situazione epidemiologica di quella città, per cui quando c'era la possibilità di muoversi, non nel pieno del lockdown. Tra l'altro eravamo anche obbligati a segnalarlo alla questura, per cui era un lavoro che dovevamo obbligatoriamente fare, tra l'altro anche ordinato dalla questura stessa. Il comandante approfitta dell'occasione anche per annunciare le novità a cui si dovranno preparare i bitontini nei prossimi mesi. La città si deve cominciare a preparare, a capire che bisogna dare spazio ai pedoni, bisogna respirare un po' d'aria pura e quindi che indurrà molti di noi a rinunciare al mezzo di locomozione per godere di una passeggiata salubre e sicuramente più sicura, più tranquilla.